Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia del Barcellona per la stagione 22-23 in edizione player, la maglia indossata dai calciatori. La maglia di casa dei Blaugrana conferma un ritorno a valori più tradizionali con design a strisce tricolore con tonalità di blu differenti accompagnate dal rosso. Il look elegante della divisa si arricchisce dell'oro per il logo Nike e altri dettagli. La maglia casalinga del Barcellona 22-23 trae ispirazione dalle divise del club a cavallo del nuovo millennio. I colori sono ad esempio quelli della camisetta dei catalani indossata per la stagione 2001-2002. La maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione home è progettata per il fisico dell'atleta. Avevo già visto questa maglia ancora all'inizio quando ancora non era stato definito lo sponsor, trovate qui sopra la recensione. Ho deciso di rivederla perché è veramente molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, una maglia stupenda di una squadra tra le più blasonate e famose al mondo, quindi una maglia secondo me che bisogna avere. Il costo lo vedete qui sopra, che per una maglia fatta così bene in una versione player è veramente bassissimo. La qualità è ottima, i colori sono brillanti, le cuciture non danno fastidio. Devo dire che come al solito su JJ Sport si trovano veramente degli ottimi affari. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.